Dedico questo video a Mr.Mistero che è uno degli iscritti al mio canale, che in fiera mi ha riconosciuto e mi ha detto Ma tu sei Svideogame! Grandissimo, lo saluto e lo ringrazio, ciao! Va bene, ciao a tutti, buona continuazione di video! Stiamo andando al Cartoon Mix, qui c'è Zach, ci sono anche io! E guardate la gente a fare la coda Stiamo andando al Cartoon Mix Oh, lei è mia amica! Stiamo andando al Cartoon Mix Stiamo andando al Cartoon Mix Ciao! Allora ho trovato questo mio iscritto si chiama Mr.Misterio Mr.Mistero Mr.Mistero che mi segue Ti ringrazio, grazie mille Ciao grande! Abbiamo qui con noi The Player 96 Questo mi fa i video a tradimento Ciao! No, però sei qui anche per un altro motivo, dillo, dillo Che motivo? Che cos'è? Perché c'è Svideogame! Ah, perché c'è Svideogame! Ah, perché c'è Svideogame! Lo saluto sul mio canale! Seguite The Player 96 Non è vero! Seguite anche lui! Ma io non faccio video! Ma lui non ha Youtube! Ma fa lo stesso, seguitelo lo stesso! Così! E niente, come ti trovi al Cartoon Mix? C'è casino, fa caldo, c'ha sete Bene! A posto! Ha 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 ha! Non è vero! Build I NeveO Lo scato! Ti va beneva! Mol hero de �id verlegeremo le tortue monitor Grazie a tutti 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 E seguite sempre Il video che è un grande YouTube che fa dei bellissimi video Esagerato No seguite Zaccheroni 3 mi raccomando E un saluto Dalla fiera da entrambi Ciao Ciao Grazie a tutti